Buona giornata, buona mattinata a tutti voi, oggi è giovedì 11 agosto 2022 e questa è la rassegna stampa di Fano TV, occhio ai giornali, il commento alla stampa del giorno, abbiamo selezionato come sempre per voi alcune pagine dai due quotidiani locali, vale a dire il resto del carino del Corriere Adriatico e tra poco le vedremo leggendo i titoli, alcuni casi anche entrando nel dettaglio di alcune notizie e lo faremo nei prossimi dieci minuti che staremo insieme. Allora prima di tutto cominciamo dal santo di oggi che è una santa per noi molto importante perché è Santa Chiara, Santa Chiara è la patrona della televisione, oltre ad aver seguito San Francesco ad Assisi, insomma ha fatto tante cose straordinarie in quel paese meraviglioso dell'Umbria, nel cuore verde dell'Italia, ma insomma è anche la nostra patrona. Allora io do una comunicazione di servizio al nostro regista, Riccardo Sora, non vedo nessun monitor qui, quindi vado alla cieca, ma comunque vediamo, quindi non posso dirvi l'alba e il tramonto, ma avrete sicuramente visto da soli. Adesso invece andiamo a vedere il tempo e cominciamo con questa immagine che come ogni mattina vi propongo, sparsi un po' qua e là per la nostra regione, le telecamere, le webcam, come si dicono, poi sono sempre più belle perché comunque sono in alta definizione, quindi ci consentono di vedere a volte anche i dettagli. E allora oggi vi propongo questa spiaggia, questa immagine che è un po' contro sole, quindi insomma come vedete è un po' rovinata dal chiarore, però insomma siamo a Numana, la splendida spiaggia di Numana, con il sole che è già alto e questa è la spiaggia, ma ripeto comunque anche se abbiamo il sole in faccia è sempre bella da vedere. Adesso invece andiamo a vedere come sarà il tempo nelle prossime ore e nei prossimi giorni, lo facciamo con il bollettino della protezione civile delle Marche. Per oggi avremo cielo sereno un poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo, per la giornata di domani più o meno la giornata è uguale, tranne qualche precipitazione lungo i settori montani, locali rovesci, brevi temporali sui Sibillini, ma sulla costa il sole è garantito. Sabato, attenzione, sabato qualcosa cambia, sabato 13 agosto abbiamo la pioggia sia sull'Appennino ma anche sull'Anconetano, vedete, si rovesci o brevi temporali sparsi in particolare al mattino. Le temperature sono stazionari oppure in lieve diminuzione, poi dalla giornata di domenica torneranno condizioni di tempo molto stabile. Temperature in graduale aumento e allora diamo un'occhiata alle temperature di oggi per vedere un po' che cosa ci attende, se saremo ancora sotto il caldo affoso, ma penso di no perché comunque in questi giorni, per fortuna, anche ieri l'umidità ci ha lasciato in pace, ma comunque siamo con temperature, come vedete, sempre intorno ai 30 gradi, macerata a Ascoli, Piceno, Pesero, Fano 28, più o meno come ieri. Allora adesso i giornali, cominciamo dal Corriere, Tari, la tassa dei rifiuti, bottino da 19 milioni, sono i pesaresi che dovranno sborsare, è la cifra che i pesaresi dovranno pagare per la tassa sui rifiuti già consegnate le prime bollette, la scadenza, anzi il 16 di settembre, l'opposizione parla di aumenti frutto di strategie sbagliate, mentre la copertina e la fotonotizia del Corriere è per la notte delle stelle che si è tenuta a Pesero il giorno di ieri, praticamente il giorno di San Lorenzo, le stelle sfidano il vento e la festa va. Poi l'emergenza Civitanova, dopo i due delitti rubano pure alla polizia, erano passate poche ore dal delitto di via Tazzelio e Civitanova era presidiata dalle forze dell'ordine, un via vai continuo di pattuglie, ma la sfrontatezza di un 39enne di Montegranaro ha superato ogni limite, a tal punto da spingerlo a rubare al lido della polizia. Poi si è addormentato sul lettino, gli agenti del commissariato lo hanno arrestato. Medico che rifiuta il vaccino, il giudice respinge il ricorso, poi da Fano, Vandali e Ladria, Torrette appello per la vigilanza, Urbino festa del Duca, con Federico si alza il sipario. Parlamentari approvata una sola proposta di legge e il modesto risultato delle istanze promosse da deputati e senatori della provincia pesarese. Un articolo molto interessante, lo vedremo tra un istante. Poi ROF, Rossini Opera Festival, parte alla grande, oggi in scena c'è l'hotello. Il resto del carino, fotonotizia anche qui per la notte delle candele, eccola qua, candele da record. Il grecale soffia sulle fiammelle, ma in spiaggia erano circa 40.000. Dottoressa Novax, doppia sconfitta, rifiutò di vaccinarsi il sanitario di Urbino sospeso dall'ordine. Lei fa appello, ma il tribunale le dà torto. Giorgio Mocchi e Antonio Baldelli, una poltrona per due, in palio il collegio del Senato, il duello tra l'ex sindaco di Piobbico e il fratello dell'assessore regionale, appunto Baldelli. Poi stasera c'è la prima dell'hotello, Desnemona e i suoi incubi, il femminicidio, va in scena. Gianni Letta, ora è pesarese, qui sono a casa. Avvocato e storico, Urbino piange, Filippo Marra, avvocato, aveva 80 anni. Vuel, arrivano i primi test, pizza sponsor dell'Oreto, mentre sul fronte calcistico, Vis, Gucci in partenza, Bonfano con l'Orvieto. E adesso le pagine interne, a rischio la sicurezza, i comuni schierano pattuglie, e telecamere. Misure straordinarie a Civitanova dopo i due omicidi avvenuti in strada. Il sindaco di Porto Recanati dice che arrivano in città tanti giovani pendolari, servono più controlli alla stazione ferroviaria nei fine settimana a Senigallia, vigili urbani in servizio fino alle 3 di notte. Allora, approfittando del riquadro, del grafico del Corriere Adriatico, questa mattina guardiamo così velocemente quali sono stati gli episodi di violenza in queste ultime settimane, a partire da Pesaro, dove tra giugno e inizio luglio sono stati registrati atti di vandalismo in spiaggia e anche delle risse. Poi il 19 luglio a San Benedetto del Tronto avviene una rapina all'esterno di una discoteca, sono stati individuati tre giovani colpiti da un foglio di via obbligatorio, mentre a fine luglio una donna viene colpita al volto da un bicchiere di vetro lanciato a seguito di una lite scoppiata tra due ragazzi. Nella notte tra il 7 e l'8 agosto, sempre a San Benedetto del Tronto, un commerciante viene aggredito dal padre di un ragazzino al quale era stato chiesto di smettere di fare chiasso, ma altri episodi, sicuramente il più quello che ha avuto l'epilogo peggiore a Civitanova, il 29 luglio l'ambulante nigeriano Alica viene picchiato e poi schiacciato a terra in corso Umberto I dal 32enne salernitano Filippo Ferlazzo. E l'8 di agosto, sempre a Civitanova, invece sul lungomare Sud, Piermanni, Rashid, Amri, 30 anni, tunisino, viene accoltellato a morte, viene arrestato poi il cugino, 27enne Saidi Aytem. A Porto Recanati invece la notte del 31 luglio, vedete ancora violenza, tafferuglia all'esterno di un locale, un sedicenne viene preso a calci e pugni e poi a Porto San Giorgio, nell'ultimo fine settimana di luglio, una rissa sul lungomare, coinvolge più di 20 ragazzi. Ecco perché i comuni schierano pattuglie e telecamere. La stangata sugli autobus, quasi giornata 5 del Corriere di Oggi, i biglietti aumenteranno fino al 15%, la regione dice settore in ginocchio per la pandemia, la rivolta dei sindaci. Dunque attenzione perché aumentano le tariffe del trasporto pubblico locale nelle Marche fino al 15% a seconda della classe chilometrica e fino a 100 km di percorrenza. Ma si registrano ritocchi anche nell'abbonamento annuale per gli studenti, calcolato non più su 7 mesi, ma su 7 mesi e mezzo, con un rincaro che sfiora il 10%. Viene invece ridotto dell'11% il costo dei biglietti con una tratta superiore ai 100 km e resta inalterato il prezzo degli abbonamenti mensili ed annuali dove viene modificato il termine di decorrenza, legati cioè alla settimana o al mese solare. Dunque oltre a tutti gli aumenti che arriveranno impietosamente a partire dalle prossime settimane finita la stagione estiva, oltre agli aumenti che riguarderanno gas, luce e ovviamente anche il settore alimentare purtroppo, arriva questa stangata sui biglietti dell'autox. Io non so come faremo, non so cosa succederà. Di sicuro, non voglio fare certamente l'uccello del malaugurio, ma non possiamo nemmeno mettere la testa sotto la sabbia come stiamo facendo noi italiani rispetto agli altri. Leggevo un articolo l'altro giorno che i cinesi hanno fatto scorte alimentari per i prossimi 6 anni, cioè hanno assicurato alla popolazione, e non sono pochi, sono più di un miliardo i cinesi, per i prossimi 6 anni. Ecco, una notizia che dovrebbe preoccuparci, nel senso che verrebbe, la prima domanda che mi sono posto è che cosa sanno i cinesi che noi non sappiamo, perché hanno fatto scorte per 6 anni per la loro popolazione, mentre noi facciamo finta che tutto vada bene, e poi, insomma, ecco, ci ritroviamo come al solito, all'ultimo secondo, a rincorrere le farfalle. Insomma, è un problema, è un problema, però qua sembra che vada tutto bene. Intanto, qui c'è un articolo molto interessante, sulla pagina 6 del Corriere dei Atti, questa mattina, allora, passa una sola legge, tanto lavoro a vuoto per i parlamentari. Allora, l'articolo è di Lorenzo Furlani. Allora, vediamo intanto, questa è la fotografia dei rappresentanti dei parlamentari eletti o residenti nella provincia di Pesaro e Urbino. Abbiamo Andrea Cecconi, deputato ex Movimento 5 Stelle, Maurizio Cattoi, deputato ex Movimento 5 Stelle, Roberto Rossini, dei 5 Stelle, Alessia Morani, del PD, Luca Rodolfo Paolini, della Lega, Rossella Coto, senatrice dei 5 Stelle, e Donatella Agostinelli, senatrice dei 5 Stelle. Ora, non vi spaventino, non facciano confusione i numeri, poi capirete anche, leggendo l'articolo, che cosa sono e che cosa più o meno stanno a significare, ma andiamo a leggere un estratto di questo articolo, ripeto, interessantissimo, che dà un po' l'idea di come hanno vissuto questi anni i nostri parlamentari eletti. Insomma, in sostanza, alla fine della giostra, tirando la somma, come si dice, tirando la riga e facendo la somma di quello che hanno fatto, di come hanno lavorato, eccetera, eccetera, il risultato è veramente misero. Un solo disegno di legge, praticamente, presentato da un parlamentare del territorio pesarese come primo firmatario è diventato legge dello Stato nella diciottesima legislatura, mentre altri due sono stati assorbiti in testi similari, definitivamente approvati dal Parlamento. Quindi uno solo, ed è quello che riguarda la giornata nazionale delle vittime del Covid, che appunto, come primo firmatario Rossini, mentre le altre due, come dicevamo, sono state assorbite da altri, ma comunque erano istanze di Cecconi, sul registro dei tumori, e della Morani sul rito abbreviato. Azzerati disegni approvati da una sola Camera, arenate invece diverse iniziative. Praticamente di tutte le cose che hanno prodotte, ma modestamente, insomma, non è che c'è poi tutto questo gran numero, insomma, poi Furlani spiega bene e con tutti i numeri, come si dice, alla mano, e il risultato è, ripeto, assolutamente modesto. Questo è un po' quello che va registrato stando appunto all'analisi del collega del Corriere Adriatico. E questo è l'articolo che potrete appunto vedere sul giornale. Poi, sono in arrivo le bollette della Tare, abbiamo visto, il Comune incasserà oltre 19 milioni, Marchionni parla di una scelta, scelta di arena, ma i cittadini pagano anni senza investimenti e strategie pubbliche, mentre Letta Pesarese commosso, parole di grande affetto per la nostra città, la città di Pesaro, di cui è diventato cittadino onorario. annuncia il suicidio, un 37enne è stato salvato, manda un messaggio alla compagna, che poi chiama immediatamente la polizia, e gli agenti lo ritrovano. Praticamente questa donna si è svegliata al mattino e ha trovato sul suo cellulare un messaggio del compagno che annunciava di volerla far finita. alle 6 e mezza del mattino, insomma, quando ha avuto questo messaggio, ha chiamato subito la polizia. Il suo compagno, un 37enne, le aveva mandato questo messaggio in cui annunciava intenzioni estreme. Lo stesso messaggio era stato inviato anche ai familiari, e quindi non c'era praticamente tempo da perdere. E così le volanti della polizia si sono precipitate a casa dell'uomo, che però non era presente in casa. Hanno battuto le vie della città per cercarlo, ed è stato allertato anche il personale della polizia ferroviaria, nel caso in cui il giovane potesse scegliere la stazione del treno come luogo, insomma, per buttarsi sotto il treno, ecco, in sostanza. E penso a chi è stato chiamato il 118. Alla fine l'hanno trovato in via Flaminia e lo hanno avvicinato con molta calma cercando di rassicurarlo e di non spaventarlo. Adesso invece andiamo a vedere l'altra pagina, quella di Fano, del Corriere Adriatico. Intanto l'apertura, il titolo più importante, la notizia più importante, è quella che riguarda il commercio. Per i negozi ora si rialzano gli affitti. Vedete anche qui gli aumenti. C'è turismo ma manca personale, la Presidente di Confcommercio chiede aiuto al Comune, ascoltate l'appello del Vescovo. Insomma, i negozi sono pieni di merce, il centro storico è gremito di gente, quello che manca però è il personale. Un problema questo che sta creando gravi difficoltà agli esercenti che spesso sono costretti ad effettuare un turno di chiusura in un periodo che potrebbe essere invece non poco remunerativo. per considerare a chi è in servizio di effettuare il riposo settimanale. Cioè, cosa vuol dire? Manca il personale. Proprio ieri sera ero a cena in una pizzeria fanese e alla fine della cena la titolare si è avvicinata, mi ha parlato dicendo appunto che anche loro vivono questo disagio enorme che non si era mai registrato negli ultimi tempi. Cioè, non hanno personale, non riescono a trovare il personale, quindi il titolare che stava di là in cucina, meno male che hanno dei figli che comunque si danno da fare e quindi fanno doppi e tripli turni. Ma insomma, quanto può durare una cosa del genere? Ecco, anche di questo bisognerebbe riflettere, ma come abbiamo detto sicuramente uno dei problemi è il fatto che con il reddito di cittadinanza molti preferiscono stare a casa e prendersi quei soldi ed evitare di andare a lavorare. L'altra faccia della medaglia è che pagano poco. E vabbè, insomma, vedete un po', però questo è il problema. Intanto, a ottobre, rischiamo di trovare gli scaffali vuoti ai supermercati e quindi questo è un altro problema che si affaccia e di cui però nessuno al momento, o meglio, tutti fanno gli ignorri e fanno finte che tutto va bene. Allora, andiamo a vedere l'anfiteatro romano invece che trova spazio di taglio basso sulla pagina di Fano di oggi. L'articolo di Massimo Foghetti visita guidata apprezzata il monumento relegato nel sotterraneo di un condominio. Abbiamo i tesori ma li mettiamo sotto il tappeto. Bolletta da paura, restauratore disperato, il titolare del BOTA di Viale Piceno, siamo sempre a fan però, sul Carlino, deve pagare 5.459 euro. Così dice lui, rischiamo di chiudere. E per Enel, l'energia è tutto regolare, cioè l'importo è corretto. quindi una bolletta insomma pesantissima per un mese di consumi di energia elettrica e questo Cercuti potrebbe mettersi pure l'animo in pace perché le prossime saranno ancora peggiori di questa ed è una batosta denunciata da questo 32 anni titolare di questo ristorante ex ristorante Metauro in Viale Piceno al Civico 178 che si trova poco prima del ponte sul fiume. Sono due giorni che cerco una spiegazione dice lui ma da Enel e l'energia dicono che è tutto a posto che è tutto regolare perché in merito a questa maxi bolletta l'energia ha effettuato le opportune verifiche sul caso e dagli approfondimenti effettuati risulta che l'importo è corretto e non si riscontrano anomalie. Tra l'altro adesso hanno tutti questi contatori elettronici per cui la lettura del contatore è immediata è in tempo reale sono tutti collegati per cui è difficile poter ribattere. Poi c'è una notizia invece sotto di taglio basso sulla pagina di Fano che riguarda invece le prossime elezioni amministrative parliamo di politica ma in questo caso parliamo delle prossime amministrative a Fano che eleggeranno il nuovo sindaco di Fano dopo Massimo Seri e già si comincia a vociferare per esempio sui possibili candidati qualche giorno fa si parlava di Stefano Guzzi qualche settimana fa che è attualmente assessore regionale in questa fotografia mentre abbraccia Giuseppe De Leo che è già stato direttore generale del comune di Fano proprio mentre Aguzzi era sindaco e ora secondo il giornale spunta proprio De Leo tra i papabili tra i papabili del centrodestra lui cioè De Leo non sull'argomento non rilascia dichiarazioni però Aguzzi precisa io non ho mai sostenuto di volermi candidare a sindaco semmai sono gli altri a sollecitarmi è presto per lanciare candidati sindaci non è prematuro lavorare per creare le coalizioni che dovrebbero sostenere gli aspiranti sindaci nel 2024 secondo Aguzzi che è un vecchio come si dice in gergo animale politico nel senso che sa tante cose in questo caso a vincere non saranno nel 2024 i partiti ma i candidati sindaci quindi le persone verso il centro-sinistra c'è tanta stanchezza dice ancora Aguzzi a livello locale ma anche nazionale un centro-sinistra logorato dal potere che si arrabbatta fino al ridicolo pur di continuare ad occupare posti la loro credibilità è così bassa da non essere proponibili i vandali che si trasformano in ladri sempre dalla pagina di Fano del Corriere adesso serve più sorveglianza visitati tre esercizi a Torrette una commerciante disperata esasperata dice azioni di tempismo praticamente ogni martedì hanno rubato nella cassetta estiva per la vendita di porcellane e bigiotteria ieri notte in Largo Bellariva a Torrette di Fano nella refurtiva insomma c'erano spille da signora bracciali collane collane da donna da uomo in particolare gli articoli più alla moda insomma questo è quello che ha detto Ines Laura Foschi la titolare dell'attività insomma una notte brava poi schianto tra auto e camion un'automobilista mondolfese di 60 anni rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto alle 18 di martedì a Torrette di Fano e poi la notizia che è stato assegnato per 5 anni in servizio di scuola bus a Fano l'incarico è finito all'azienda Scoppio di Gioia del Colle che impiegherà in città 13 mezzi e 12 autisti c'è un refuso se avete visto autosti bisogna essere anche tosti ma comunque sono autisti mentre dalla pagina di Fano ancora del resto del Carlino ha i giorni contati il lupo della Movida sarà catturato a fine mese dopo Ferragosto l'esemplare che ha trovato rifugio in un cannetto nella zona turistica della Sassonia e questa è la fotografia del lupo immortalato da una fototrappola e mentre a destra vedete Angelo Giuliani del Crass il centro che appunto si occupa di questi di questi fatti il responsabile dice in questa vicenda i fanisi stanno dimostrando un alto valore di civiltà e quindi vedremo se stavo pensando altrimenti poi mi dimentico siccome siamo sulle pagine di Fano ieri vi avevo fatto vedere questa leggendo un articolo del Corriere Adriate come mi pare o del resto del Carriere non ricordo bene adesso della polemica che c'era al Pincio di Fano che è considerato un po' il salotto della città del centro storico dove però insiste una casa che è ancora lì vecchia da ristrutturare eccetera eccetera ieri ho fatto un commento dicendo che effettivamente in quel contesto quella casa lì impostona e quindi ho detto ci vorrebbe che il Comune insistesse con la proprietà o comunque obbligasse la proprietà a prendere provvedimenti ieri ha chiamato il proprietario così mi hanno riferito dalla redazione dicendo che in realtà loro sono due anni che attendono il permesso a ristrutturare da parte del Comune ora gli abbiamo chiesto una intervista che però ha detto di non voler rilasciare non so da che parte sta la verità però in un modo o nell'altro quella casa lì così chiaramente è un dato di fatto è brutta vedersi ora è chiaro che se fosse veramente come dice il Signore io credo alle parole del proprietario è tra virgolette colpa del Comune il fatto sarebbe ancora più grave e quindi insomma vedremo cercheremo di capirne un po' meglio comunque tanto vi devo dire anche per così mettere un po' le cose un po' più in ordine adesso andiamo sulla pagina di Senigallia dove la questione qui degli ombrelloni vuoti dopo il summer giamborì che ha richiamato in città centinaia e centinaia di persone adesso ci si accorge che una volta andati via perché il festival è finito sono rimasti gli ombrelloni vuoti e tanti posteggi liberi la spiaggia è da depressione questo è il titolo depressione post giamborì Bramucci dice bisogna tenere viva la città ma la stagione è positiva Pompei in calo i giornalieri e poi l'addio a Dina la storica bagnina del Cernin Baruc aveva 82 anni domani mattina i funerali alle 9.30 nella chiesa del Cernin con la tumulazione del cimitero delle Grazie poi in gestione invece le ex colonie sul lungomare Da Vinci sempre a Senigallia scatta il divieto di sosta nell'area utilizzata dei pendolari del Cernin e poi sempre dalla pagina dalle colonne del Corriere Adriatico ancora cronaca scusa poi raccogliere la carta rissa a bordo capotreno aggredita alta tensione tra una ragazza e il passeggero poi le botte addirittura la giovane portata dall'ospedale al commissariato dunque tre feriti compresa la capotreno quindi una donna per la rissa scoppiata nel tardo pomeriggio di ieri alla stazione ferroviaria il motivo un pezzo di carta che una ragazza aveva gettato a terra i passeggeri stavano scendendo dal treno tra loro anche una coppia di fidanzati romagnoli arrivata per trascorrere la serata in città a Senigallia dietro di loro un passeggero che si è accorto che la ragazza aveva fatto cadere una cartaccia il fidanzato nel frattempo era sceso il passeggero ha chiesto alla ragazza di raccogliere perché dice perché non raccogli la carta che buttala per terra mentre la dite nel cestino scoppiata la rissa adesso non si può più dire nulla perché tutti hanno i nervi a fior di pelle tutti un po' così Urbino dice addio all'avvocato Filippo Marra questa è l'altra pagina invece del Carlino docente di storia del diritto italiano e riferimento del foro di Urbino è morto da 80 anni il cordoglio del magnifico rettore Calcagnini e poi l'ultima pagina invece di oggi la dedichiamo alla notte delle fiammele dal Carlino di Pesero questa maxifoto pubblicata sulla pagina l'assalto dei 40.000 da Gabiccia a Sottomonte il litorale risponde alla chiamata il litorale appunto risponde alla chiamata dopo due anni di pandemia esplode la voglia di uscire senza vincoli travolti anche gli stranieri un appuntamento che non voglio perdermi questo è ciò che hanno raccontato e hanno detto lungo la spiaggia illuminata dalle candele noi invece ci salutiamo qui ci diamo appuntamento questa sera alle 20.30 con l'informazione locale di Occhio alla Notizia e il telegiornale di Fano TV vi auguro una buona giornata e arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.